Oggi è il compleanno di un elettrodomestico che ha cambiato la vita di tutti noi ancora prima di entrare nelle nostre case. Così raccontiamo la sua storia. Quando parliamo di storia pensiamo ai grandi conquistatori, alle battaglie, insomma a qualcosa molto distante dalla nostra vita, dimenticandoci che invece la storia è molto vicino a noi, popola la nostra vita e nelle nostre case custodiamo oggetti che hanno segnato l'inizio di un'epoca. In questo caso sto parlando del frigorifero. La storia della tecnica è molto utile per capire come il progresso scientifico e l'aumento della conoscenza abbiano spesso generato percorsi applicativi tortuosi, come una determinata tecnologia abbia preso la forma odierna attraverso una serie di passaggi difficilmente immaginabili. L'idea di poter in qualche modo creare il freddo o quantomeno produrre il ghiaccio popolava già la seconda metà del Settecento, tuttavia fu nel secolo successivo che prese il via una vera e propria conquista del freddo. Come sappiamo non è facile datare con precisione un'invenzione e semplificare un processo che normalmente dura decenni e passa per le mani e la testa di numerose persone. Tuttavia possiamo dire che il 6 maggio del 1851 l'americano John Gorrie depositava in Florida il brevetto di una macchina per la produzione del ghiaccio. Per quanto 16 anni prima un altro americano, Jacob Perkins, avesse depositato in Inghilterra un brevetto simile, Gorrie cercò in tutti i modi di commercializzare la sua invenzione. Ciò che oggi potrebbe stupirci è che John Gorrie non era un chimico o un fisico, bensì un medico. E perché mai un medico dovrebbe aver inventato il frigorifero? Perché la Florida, come molti altri luoghi a metà dell'Ottocento, sapeva essere molto in ospitale a causa del clima torrido e delle pianure paludose, era infestata dalla febbre gialla e dalla malaria. Gorrie, che da anni combatteva strenuamente contro queste malattie, voleva creare un macchinario in grado di abbassare la temperatura dei suoi pazienti, in grado di salvarli dalla febbre e semmai capace di ridurre la circolazione delle zanzare. L'antenato del frigorifero era perlomeno nella mente del suo creatore uno strumento medico. Ad ogni modo, a causa dei numerosi difetti del macchinario e della strenua resistenza da parte dei commercianti di ghiaccio, che avrebbero perso definitivamente un lavoro redditizio, il progetto commerciale di Gorrie fallì. Tuttavia, la corsa al freddo non accennò a rallentare. Anzi, in ogni stato del vecchio continente vi erano studiosi pronti a migliorare il macchinario e ad utilizzarlo per soddisfare o addirittura creare nuovi bisogni. A compiere un altro passo decisivo fu il francese Charles Stelier, il quale non soltanto perfezionò il macchinario di Gorrie, ma ebbe anche la brillante idea di installare il suo impianto su un piroscafo, che nel 1876 trasportò in Francia un carico di carne che era stato macellato in Argentina ben 105 giorni prima. Rivoluzione. Presto i frigoriferi conquistarono anche i treni, cambiando per sempre il mondo, l'alimentazione e perfino i gusti delle persone. Il superamento delle tecniche tradizionali di conservazione portò infatti in pochi anni a quella che fu definita una delocalizzazione del gusto, a una globalizzazione alimentare impensabile fino a pochi anni prima. Solo nel 1913 il frigorifero acquisì la forma domestica che tutti noi oggi conosciamo, mandando definitivamente in pensione le vecchie ghiacciaie e semplificando non poco la vita di tutti noi. Ma come abbiamo detto, ben prima di varcare la soglia delle nostre cucine, il frigorifero aveva già cambiato il mondo, portando con sé, come tutte le invenzioni, una serie innegabile di vantaggi, ma anche i numerosi costi ecologici che oggi dobbiamo affrontare.